Buongiorno a tutti, mi chiamo Peter, Pietro in italiano, e sono andato a parlare in Lombard, Lombard, che è... cosa è Lombard? Disarrivi altri. Lombard è una lingua neolatina occidentale, compagno del francese, del spagnolo, del portoghese, del catalan, che l'è parlata in un grosso tocco dell'Italia del Nord, dicendo per essere più precisi, in della Lombardia, ovviamente, in del Piemonte orientale, in un tocchelin del Trentino, e in tutta la Svizzera italiana, dunque il canton Tisin e un tocco del canton Grison, di Grison. L'è, dunque, l'è parlata in un bel tocco di terra, purtroppo l'è detto che l'Italia ha sparito, perché la gente, la gente che la parla, sanno e credono che la sia una lingua, pensano che la sia un dialetto, e dialetto è un termine, è una parola che in Italia l'è un significato positivo, perché la lingua è il dialetto, e il dialetto è purtroppo una lingua di serie B. e dunque, la grande importanza è più di tanto, l'è considerata una lingua del passato, una lingua dei vecchi, una lingua anche un po' racista, purtroppo, una lingua per sarassi un del sole e stelle, invece, che del risalmonte. Dunque, purtroppo, l'è detto che il Lombardia parlasse sempre meno, e soprattutto quel che l'è più grave, è che i nonni e i padri, che parlano meglio in Lombardia, hanno solo un uomo e solo un po' e dunque, si rischia che fra una qualsiasi decenni di anni, e il Lombardia sarà, arriva all'estinzione. Mi pensi che sia proprio un peccato, per tante ragioni, prima di tutto perché le sbagliate pensano che sia un dialetto, e che sia di lingua di serie A e di serie B, è una roba che la staglina è bene. E poi perché pensi che sia sbagliate, che sia proprio una... una disgrazia, fa morire una lingua, che ha un valore culturale, e io in Italia, sai quanto è importante la cultura, ma anche una lingua la fa cultura, e non la lingua d'estate, ma anche la lingua regionale. E dunque, mi ho scominciato un po' anni fa a... tutti imparare il Lombardia, perché mi sapevi, no, mi parlavo l'italiano, e lo parlo anche abbastanza bene, diciamo, essendo madre di lingua italiana. Lui imparavi a essere già mo' grande, e poi ho attaccato a parlare e a scrivere. Dunque, tu ci dì, mi scrivi e provi a parlare il Lombard, per qualche po' di, per cercare di tenere viva quella lingua qui, quella lingua qui, perché l'unica maniera per tenere viva una lingua, è parlare, le doprarare, in tutte le occasioni che si può, provare a parlare. E mi la parli. anche di Nance a una videocamera, che, insomma, la mia domanda risponde. Però, insomma, mi credi che sia una battaglia giusta, che la sia una battaglia bella, e che la valore la pena, che valore la pena combattela. E dunque, ho in Nance, e spero che, insieme a me, che sarà tanta altra gente, che già ho un po' di gente, che l'ebreo ha combattuto per l'Umbardo, e per tutte le altre lingue d'Italia. Perché anche il Piemontese, il Siciliano, il Genoese, il Napoletano, e via in sci. Però, mi spero che ne sarà un po' di sé. Mi spero che con quel video, un po' di altri, più da interessarsi, alla questione linguistica italiana. Perché, pensi che sia proprio una, un po' di lavoro, più importante, più bello, per il mio paese, che è l'Italia, per la mia regione, che è la Lombardia, per la mia città, che è Milano. Dunque, in Nance in Sci, almeno per me, per gli sperimenti anche gli altri. Ciao!